La notizia del giorno è che si è tornati alla corsa gli sportelli delle banche più meno come nel 1929, nei paesi più colpiti dalla crisi, la Grecia innanzitutto, ma adesso abbiamo preso anche dalla Spagna, i cittadini corrono agli sportelli delle loro banche a ritirare risparmi, in un solo giorno a Madrid pare che siano stati ritirati un riardo di Euro dai correntisti, in Grecia c'è uno stilicidio che viaggia a ritmi di 700 milioni di Euro al giorno e di questi soldi pare che 280 miliardi abbiano già trovato riparo guarda caso in Svizzera, dove sicuramente saranno andati a fare compagnia ai 150 miliardi che i cittadini italiani hanno già portato nelle banche elvetiche da tempo. C'è da chiedersi che cosa succederà perché naturalmente la situazione è molto simile a te del 29, ma le motivazioni sono diverse. In Grecia i Greci temono che un'eventuale uscita dall'Euro che massacrerebbe il valore dei loro risparmi, che avrebbero un ritorno alla dracma, provocherebbe il crollo del valore del risparmio, ovviamente cercano di difendere quel poco che è loro rimasto, che sappiamo è molto poco. La Spagna che nuovamente nel mirino dell'articolazione teme una cosa analoga, in Italia questo stilicidio è già in corso da molto tempo, anche se noi non abbiamo un problema immediato di uscita dall'Euro o almeno non sembra che lo amo per ora, perché una notizia di qualche settimana fa è che le banche svizzere hanno finito le cassette di sicurezza e stanno affittando dai grandi alberghi della Svizzera cassette di sicurezza dove mettere i contanti, i risparmi, i valori che gli vengono portati dall'Italia. Naturalmente in una situazione di questa zona dove ci sono questi flussi di capitali incontrollati sostanzialmente, da un po' che all'altro io immagino che ne trarranno vantaggio comunque le organizzazioni criminali come al solito, perché quando girano tanti capitali incontanti non si sa bene mai e non si sa bene. Comunque il fenomeno interessante della Grecia è che i Greci in maniera molto ordinata stanno andando al Bancomat a ritirare giorno per giorno tutti i loro soldi. Questa è una cosa che mi fa pensare che noi tutti continuiamo a fissarci sul risanamento dei conti pubblici, sul rigore di bilancio, però in realtà poi stiamo vedendo che i risultati sono drammatici, probabilmente molto più catastrofici di quanto potrebbe essere un mimo di rilassismo sui bilanci. Immagino che a un certo punto le banche potrebbero anche finirli con tanti, però questa mi sembra un'ipotesi ancora lontana, nel senso che le banche poi i soldi che comunque ce li hanno, i soldi che i correntisti hanno depositato anche se non li tengono lì materialmente in cassa. Quello che un po' mi ha colpito è che per esempio a Roma, parlo delle piccole cose che conosco, ci sono banche che ti chiedono di prenotarlo il contante, ma anche se devi prendere mille euro, ti chiedono di dirglielo il giorno prima e loro poi te lo procurano, quindi adesso non so, non credo che questo voglia dire che ci sarà un allarme di liquidità, ma è ovvio che prima o poi si creerà un problema, perché i soldi dei correntisti le banche li usano per il loro lavoro, teoricamente dovrebbero usarli per prestarli ad altri correntisti, come sappiamo ne stanno prestando veramente pochi, però mi sembra una situazione abbastanza surreale, è molto pericolosa in ogni caso per l'economia e anche per gli equilibri complessivi dei singoli paesi, perché mi chiedo che cosa succederebbe se uno andasse in banca per ritirare i soldi e la banca dice se mi spiace non ce li ho. Sì, pare appunto, io leggevo che anche i greci migliano a portarli in Svizzera, come tutti quanti li stanno portando in Svizzera, probabilmente la Svizzera come sappiamo è un paese molto blindato da questo punto di vista, anche se è soppo attacco da parte di molti paesi che cercano di arrivare alla trasparenza a Bulgaria, però mi sembra una strada ancora molto lontana, poi qui non stiamo parlando, attenzione, qui non stiamo parlando dei soldi degli evasori, che appunto sono quelli che vengono nascosti in Svizzera, qui parliamo di soldi di cittadini che ritirano i loro soldi puliti, onesti dalle banche perché non si fidano di quello che l'economia del loro paese e che il governo dei loro paesi sarà in grado di fare, immagino che i greci in questa situazione in cui adesso tra l'altro diciamo paradossalmente c'è un magistrato, capo di governo greco, però con l'ipotesi di andare nuovamente a votare fra un mese e non riuscire a risolvere la situazione, se veramente e io ripeto paradossalmente perché non ritengo possibile davvero l'uscita della Grecia dall'Euro, ma se questo avvenisse giustamente loro pensano, già siamo in miseria, con l'ipotesi del ritorno alla dracma i miei 1000 Euro varrebbero la metà, giustamente io me li porto via, quindi anche loro ha diritto farlo, loro non stanno esportando capitali sporchi, stanno esportando capitali per metterli a riparo da una situazione politica ormai ingovernabile, per l'appunto infatti non hanno il governo. Mi auguro di no, nel senso che in Grecia hanno fatto pasticci molto peggiori di quelli che sono stati fatti da noi, avevano una situazione leggermente più drammatica della nostra, dico leggermente perché in realtà non per essere sempre fissato sul tema della legalità, però l'evalione fiscale in Grecia è più o meno pari alla nostra e il livello di corruzione della Grecia è più o meno pari al nostro. A questo proposito vorrei ricordare che sicuramente sono necessarie e severe le misure di bilancio, di correzione dei conti e quant'altro, però osservo che in questo paese dove la corruzione pesa per 60 miliardi l'anno sulla nostra economia non siamo neanche questa volta riusciti a provare una legge sulla corruzione, c'è stata una bagarra alla Camera appartessa l'altro giorno quando ormai tutti gli osservatori internazionali dicono all'Italia voi avete un problema grave di corruzione nell'economia oltre che nella politica mettete riparo, non siamo riusciti a mettere riparo, non è un buon segnale secondo me, i famosi mercati finanziari guardano anche a queste cose, bisognerebbe cominciare a rendersene conto seriamente che non guardano solo all'articolo 18 o all'equilibrio dei conti, guardano anche a questi elementi, alla lotta alla corruzione etc. come segnali se eri di un paese che vuole svoltare, non mi pare che qui ancora ci sia questa volontà di svoltare da questo punto di vista.